Tra i riflessi luminosi dei fornelli accesi sulla prestigiosa cucina di Masterchef Italia vi è anche un agrigentino. Si tratta di Salvatore Cozzi Torto, 31 anni, comandante di navi mercantili e da sempre appassionato di cucina. Ieri sera, giovedì 17 gennaio, in occasione della prima puntata del più importante talent show della TV dedicato alla cucina Masterchef Italia, in onda su Sky 1, in prima serata, Salvatore Cozzi Torto ha virtualmente gettato l'ancora della sua nave mercantile per approdare ai casting dell'ottava edizione del cooking show più amato dagli italiani. Il nostro eroe è riuscito a deliziare e persuadere il palato della più celebre giuria culinaria televisiva d'Italia, composta da Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, New Entry, Stellata, e a conquistare il grembiule di Masterchef Italia. Infatti, Salvatore, con il suo piatto di pesca Traina, Sgombro e Rocher, ha ricevuto i necessari quattro sì per assurgere a concorrente dell'ottava edizione di Masterchef Italia. Il vincitore intascherà un assegno da 100.000 euro e potrà realizzare un ricettario, dunque noi agrigentini e dalla Sicilia tutta tifiamo per il comandante chef Nostrano, augurando a Salvatore Cozzitorto il migliore in bocca al lupo. Ancora più nel dettaglio i concorrenti al momento sono 40 e dovranno superare altre prove, dopodiché saranno 20 gli chef della squadra in gara a Masterchef. Mi chiamo Salvatore Cozzitorto, ho 31 anni e vengo dalla Sicilia. Scusami, se entri dentro a Masterchef e magari lo vinci anche, che succede? Vorrei scendere dalle navi, vorrei guardare le navi dall'orizzonte del mio ristorantino in Sicilia mentre navigano sul mare. Come dobbiamo chiamarti Capitano? I miei amici mi chiamano Capitano. Mi piace. Un piatto di auto-ristorante. Un piatto che rappresenta un pezzo della mia storia. E qual è la tua storia? La mia storia è che sono molto legato al mare, nella vita sono comandante di navi mercantili. Wow! A 22 anni facevo il secondo ufficiale, a 26 anni sono diviato comandante in seconda. Sei ambizioso? Molto. Pesca, traina, sgombro e rocce. Cosa è stato affumicato? Il pepe ha affumicato al meno. Il Capitano ha portato la navi in porta. Per me è un sì. Chiaramente sì. Anche per me è un sì. Quattro sì. Un grande. Un grande. Aspirante chef, perfetta. Un grande.